Scandalo calcio scommesse, mercoledì 1 giugno 2011. Squadre e giocatori coinvolti. Torna l'ombra del calcio scommesse e il calcio italiano oggi smette di sorridere, proprio come era già successo all'epoca dello scandalo che aveva fatto tremare il mondo del pallone negli anni 80. Sei mesi di attività investigativa hanno investito e travolto il mondo del bel calcio. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia a Bari, Como, Bologna, Rimini, Pescara, Ancona, Ascoli, Ravenna, Benevento, Roma, Turino, Napoli e Ferrara. Sono rimasti coinvolti diversi ex giocatori di serie A, assieme a calciatori di serie minori, ancora in attività e a dirigenti societari. Sono 16 le persone agli arresti, di cui 7 in carcere e 9 domiciliari, accusate a vario titolo di aver fortemente condizionato negli ultimi mesi il risultato di alcuni incontri dei campionati di serie B e di Lega Pro. Molti nomi di spicco emersi dalle inchieste e l'elenco degli indagati vede comparire nomi illustri, come quelli di Stefano Bettarini e di Cristiano Doni. Risulta indagato Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura ed ex carciatore di Parma, Sampdoria e della Nazionale Italiana. Bettarini è commentatore fisso della trasmissione sportiva di Re 2, quelli che è il calcio, condotta fino a quest'anno dalla ex moglie. Anche il capitale dell'Atalanta, Cristiano Doni, risulta essere nel registro degli indagati nell'indagine sul calcio scommesse, come riporta Lanza e Sky TG24. Ricordiamo che con il termine indagato viene indicata una persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari in un procedimento penale. Sono invece scattati gli arresti domiciliari per Beppe Signori, ex di Foggia, Sampdoria, Lazio e Bologna. L'indagine non è finita qui e il GIP Guido Salvini, nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti di 16 persone, ha voluto precisare che l'attività di questa organizzazione rischia di avere già falsato alcuni dei risultati dei vari campionati. L'affermazione del GIP si riferisce alle promozioni di Atalanta a Siena, due delle squadre rimaste coinvolte nella vicenda.